Si terrà sabato 8 ottobre dalle 17 alle 20 una manifestazione pacifica davanti la piscina comunale promossa da Armando Turturigi per chiedere come mai i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati e se ci sarà una data per la riapertura della piscina. Da maggio davanti la piscina campeggia la scritta presto riapriremo la piscina con tante attività acquatiche non solo e anche la vostra attesa sarà premiata. Quello che si chiede il promotore della manifestazione e anche i cittadini nisseni che hanno non pochi problemi logistici per usufruire di altre piscine è avere delle certezze da parte della società che ha in mano i lavori di ristrutturazione e delle date certe di consegna dei lavori e riapertura della piscina. Una manifestazione pacifica per richiedere notizie e possibilmente una riapertura di questa piscina che è chiusa ormai dal giugno 2019, quindi sono tre anni. Sostanzialmente la piscina è un bene pubblico di cui tantissime persone hanno veramente bisogno ed è giusto che in città ci sia questa struttura che fa bene anche all'economia. Noi speriamo che con questa manifestazione possiamo venire ascoltati e invito tutti a partecipare.